Training online, poker e gioco d'azzardo, dipendenze da social network e videogiochi, le storie in vista del 26 febbraio, giornata regionale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Io mi sono salvato con questo pensiero, i vigliacchi erano loro, non io. Lo ha detto Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, su TV2000 denunciando pubblicamente gli abusi subiti da ragazzo in seminario. Dentro uno zaino nella cantina di un'abitazione in centro d'Ancona, un 22enne conservava circa 600 grammi di hashish kush, con THC particolarmente alto e 190 grammi di marijuana, lo hanno scoperto gli agenti delle volanti. Alcune famiglie oggi sono state costrette a lasciare le casette del consorzio CNS perché devono essere sostituiti i pavimenti. Il sindaco Cecoli è una situazione assurda se penso a quello che sono costate queste abitazioni. Entro marzo la ripresa dei lavori nel cantiere Astaldi, nell'ambito del progetto quadrilatero, raddoppio della 76 e completamento della Pede Montana a Fabriano Muccia, lo ha fatto sapere la società durante un incontro con i sindacati di categoria. Buonasera da Etg Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet tvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook di Etv e sulla nostra app di Radio Center Music. In apertura, come avete letto ed ascoltato dai nostri titoli, parliamo di ludopatie e di trading online, di poker, di gioco di azzardo, dipendenze da social network e videogiochi. Alcune storie che ha raccolto la nostra Linda Cittadini in vista del prossimo 26 di febbraio, la giornata marchigiana per il contrasto, al gioco d'azzardo patologico. All'inizio mi sentivo una persona comunque che seguiva le regole del poker online, leggendo libri, studiando e a mano a mano mi sono fatto lasciare sempre prendere più dalla mano, credendo sempre di essere forte e fortunato e sta cosa mi ha portato a distruggermi la vita. Trading online, poker, gioco d'azzardo ma anche sesso compulsivo in rete, videogiochi, social network. Quando tutto il resto si spegne e resta acceso solo il computer o la macchinetta per giocare, ecco le dipendenze tecnologiche e da gioco patologico che sono in costante aumento. Cosa la spingeva? E niente, più giocavo più volevo giocare. Anche che vincevo comunque sia il computer mi rendeva come se fossi stato sotto effetto di sostanze stupefacenti, cioè non riuscivo a prendere sonno. Quanto ha speso? Quanto ha perso? Penso che in 4-5 anni 70-80 mila euro tutti. C'è stato un momento in cui ha detto basta, quando è successo? Io ho detto basta quando cominciavo a sognare le carte, anche preferivo perdere che vincere, perché quando perdevo riuscivo a dormire, quando vincevo era talmente tanta l'adrenalina che mi spingeva a stare ore e ore al computer finché non perdevo la somma che avevo versato. Non giocate mai perché la sfortuna è quando si vince, non è quando si perde. Si pensa soltanto a quello, ci si alza pensando a quello e si va a dormire pensando a quello. Il lavoro, la famiglia? E purtroppo io ho messo in ballo anche quello perché poi si mette a repentaglio tutte le cose che ti stanno intorno. Quello che posso dire è che poi è rimasto sempre difficile, anche a me qualche volta rimane difficile chiedere aiuto. Quella è la forma, secondo me il momento in cui la persona decide, tra virgolette, di smettere. Da circa dieci anni l'equipe specifica dell'area Vasta 2 per le dipendenze tecnologiche opera al numero 9 sulle viale della Vittoria d'Ancone per il gioco d'azzardo in corso stamira 40 per l'accoglienza gratuita, individuale o familiare dalle 9 alle 17. Solo nel 2017 le persone che si sono rivolte allo sportello sono state quasi 150. I trattamenti sono di tipo individuale per esempio, quindi la classica psicoterapia individuale ma anche la psicoterapia di gruppo. Ci sono interventi psicoeducativi e poi c'è tutta una parte di prevenzione che serve per far conoscere sia il fenomeno alla maggior parte della popolazione e comunque per sensibilizzare e quindi anche proteggere. In programma ad Ancona una serie di iniziative per il prossimo 26 febbraio, giornata regionale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Si parte al mattino alla Mole Vambitelliana con le scuole, poi con appuntamenti alla cooperativa Polo 9, alla libreria Feltrinelli e all'informa Giovani della città. La pagina della cronaca ora con il caso della relazione con l'allieva minorenne, due anni e quattro mesi per atti sessuali al quarantenne istruttore di equitazione la sentenza da macerata. Condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e all'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o da uffici e servizi in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori per un istruttore di equitazione quarantenne accusato di atti sessuali con una ragazzina minorenne. L'epilogo in tribunale con la sentenza in primo grado a macerata dopo i fatti avvenuti nel 2015 e nel 2016. La ragazzina e il suo istruttore avrebbero stretto un forte legame che però ad un certo punto avrebbe passato la riga, tanto da insospettire i genitori della giovane. I genitori sono abbastanza soddisfatti però obiettivamente non è la sentenza che loro aspettavano nel senso della condanna nei confronti dell'imputato. Loro volevano il riconoscimento che questi fatti erano accaduti perché sembrava quasi un'invenzione della ragazza. Invece questo non era e il giudice si è reso conto del fatto che c'era la fondatezza di quello che diceva. D'altronde c'era anche una perizia psicologica che era stata fatta da una psicologa nominata dalla procura che dava conferma della concretezza, della veridicità in un certo senso della ricostruzione che la ragazza aveva fatto e che non era una ricostruzione inventata. L'avvocato difensore dell'istruttore ha invece respinto ogni accusa, probabile il ricorso in appello. E a proposito ancora di violenze e di abusi, la denuncia di Don Vinicio Albanese in TV a TV 2000 il presidente della comunità di Capodarco ha raccontato io mi sono salvato con questo pensiero, i vigliacchi erano loro, non io, non mi sono mai sentito vittima perché le persone malevoli, subdole e delittuose erano loro, adulti, presunti o veri educatori. La denuncia dunque pubblica di abusi subiti da ragazzo in seminario. La cronaca dentro uno zaino nella cantina di un'abitazione in centro ad Ancona un 22enne conservava circa 600 grammi di hashish kush sostanza con livello di THC particolarmente alto e 190 grammi di marihuana lo hanno scoperto agenti della squadra volanti di Ancona guidati dal vicequestore Cinzia Nicolini che hanno posto il giovane incensurato agli arresti domiciliari. Aveva invece in casa refurtiva per migliaia di euro catenine d'oro, anelli, canne da pesca, vestiti, dispositivi elettronici un sardo di 32 anni che risiede a Fano e noto alla giustizia anche per reati associativi è stato denunciato a piede libero dal commissariato locale per il reato di ricettazione. Tre auto sono invece rimaste coinvolte questa mattina in un tamponamento sotto la galleria Orciani sulla strada statale 16 sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e soccorso il conducente di uno dei veicoli rimasto poi ferito. L'uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Torrette grossi disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento. Ed ora parliamo di post-sisma e di un nuovo caso che riguarda questa volta le SAE di Monte Cavallo diverse le famiglie che sono state costrette a lasciare appunto le casette del consorzio CNS. Sentiamo. C'è l'acqua sotto, proprio sopra il cemento c'è l'acqua, quindi bisogna che intervengano per risolvere questo problema perché se no rimettono i pannelli nuovi e tra 3-4 mesi sono rovinati di nuovo. Continua l'emergenza nelle SAE costruite dal CNS, dopo Muccia insorgono problemi anche a Monte Cavallo con altre 4 abitazioni controllate e con pavimenti marci. In totale finora su 10 casette consegnate nell'agosto del 2017, in 7 sono sorti dei problemi ai pavimenti. La fretta sicuramente c'è stata, però qui è stato costruito il mese di agosto, quindi c'era il soleone, quindi non è che li hanno messi già bagnati, quindi rimango un po' basito perché questi problemi non dovevano succedere, perché sotto c'è tutta la massicciata di cemento e se probabilmente, dico probabilmente, avessero impermeabilizzato bene quel cemento, con degli scoli l'acqua probabilmente scivolava e non veniva assorbita dai pannelli. Tra i residenti un po' di sconforto per i continui disservizi e la richiesta finalmente di una tranquillità dopo due anni e mezzo di traversie. Io mi sono trovata tanto bene, mi sono trovata bene, ma però sto fatto prima, vabbè al mare, eccetera, tutta la cosa lunga, ma sono stata sempre bene. Dopo ho l'età, io ho capito, allora mi scombustola un po' troppo la mia esistenza, tutto qua. Quindi che cosa si augura? Ah, io adesso, in questo momento, mi auguro solo che fanno questo pavimento e rientro dentro. Altro no, non mi serve niente, non chiedo niente ringraziando il Dio. Io sto bene, sinceramente mi trovo bene, se sto aperto poi vai e basta, me l'hanno richiuso, ma ora se sono riaperto un'altra volta, mi hanno detto che me li aggiuntano. Infine, chiudiamo con il primo cittadino che ci fa il punto sulla ricostruzione nel piccolo borgo con quasi 150 abitanti, una ricostruzione che piano piano ha preso il via. Sono stati presentati alcuni progetti, anche per quelle più danneggiate, e stiamo andando avanti. 4 o 5 B sono finiti determinati i lavori. E' partita anche i lavori della Chiesa, che è stata una delle prime, Santa Maria Assunta, e quindi entro Pasqua o giù di lì dovrebbero essere finiti i lavori. Parliamo ora di infrastrutture. Entro marzo la ripresa di lavori nel cantiere Astaldi, nell'ambito del progetto quadrilatero raddoppio della 76 e completamento della Pedemontana Fabriano Muccia. Lo ha fatto sapere la società durante un incontro con i sindacati di categoria. I lavori sono fermi da oltre sette mesi per problematiche finanziarie che hanno colpito il secondo gruppo di costruzioni italiano, fino a giungere alla presentazione di un concordato in continuità. La Regione Marche ha finanziato altri 15 progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca con un contributo di quasi 3 milioni di euro in grado di attivare 6 milioni e mezzo di investimenti tecnologici. Le richieste sono pervenute mediante il bando PORFESR che sostiene la valorizzazione economica dell'innovazione. Torniamo ora ad Ancona. Sabato si voterà per la costituzione dei consigli territoriali. Prosegue il nostro viaggio tra i quartieri del capoluogo. Oggi abbiamo fatto tappa nel centro storico e nel quartiere adriatico. Vediamo. Consigli territoriali permanenti. Sabato 23 febbraio si vota qua ad Ancona per eleggere le rappresentanze dei quartieri. Ma quali sono le esigenze? Andiamo ad ascoltarle proprio dai cittadini. In questo viaggio che abbiamo iniziato ieri parlando delle frazioni, oggi siamo nel cuore del centro. Quali sono le esigenze di questo quartiere, rion adriatico? Le esigenze sono quelle comuni a tutti. Praticamente c'è il discorso dei controlli, specialmente in questa zona, che di notte c'è un po' di scorribande. C'erano. C'erano, adesso un po' meno veramente. Poi c'è il discorso delle strade che sono abbastanza disagiate. Allora, il problema di questo quartiere? Parcheggi. Le strade un po' potevano anche migliorare. Multi? Ecco. Multi? Sì, perché non c'è neanche una zona dove sono parcheggi gratis. Il territorio adriatico credo che non abbia grossi problemi, tranne ecco l'asfalto, sì. E qui siamo nella parte alta della città di Ancona, verso il Duomo. Che i vigili passassero un po' di più qui, la zona, perché sempre qui c'è sempre la curva, qui c'è sempre le macchine. Quando vieni su di via Fanti, diverse volte lì c'è incidenti. C'è il cantiere, quello devono stare per forza, ma c'è tante altre cose. Tutte le cose dei cani le deve avere davanti al naso, ecco. Sì. Più pulizia? Tutti maleducati, ecco. I cani non c'entrano, quelli che sono i padroni. Prima di tutto la sicurezza, anche se al momento la situazione è abbastanza sotto controllo, perché avendo la prefettura vicino, corte dei conti, questa è una zona piena di telecamere, non ci sono problemi. E poi un'altra cosa è ravvivare il commercio, perché ci sono molti locali chiusi per caro affitti, il solito problema che ormai è una decina di anni che è venuta fuori. Il parcheggio è quello, il problema è cronico, chi vive in centro c'è il pro e il contro, hai tutto a disposizione a livello di negozi o di servizi, il problema del parcheggio è tanto i pozzi e quelli. Siamo in chiusura, ci fermiamo, ma subito dopo di noi il meteo, poi Mark Flash e quindi le notizie di sport. Arrivederci. Grazie.